Quanto costa studiare fuorisede, o meglio, venire a studiare da fuori a Modena? La cifra è imponente di suo, appannaggio di non molte famiglie italiane, e dopo tutto è a causa del caro affitti in costante crescita, anzi in decollo. Il costo della vita per uno studente fuorisede, come abbiamo visto con un report fatto con Federconsumatori, è di circa 17.000 euro. Anzi, andiamo poi nel locale, sempre seguendo un report di Federconsumatori e CGL, abbiamo visto come il prezzo di una stanza si sia alzato vertiginosamente, arrivando circa a 500-600 euro al mese, per stanze poi che sono piccole, quindi circa 9 metri quadri, e quindi non con tutti i servizi necessari per la vita di uno studente. I picchi massimi segnalati sono di 700 euro, i 9 metri quadri come si fa a studiare con la necessaria privacy, soprattutto se l'appartamento dormitorio in cui si risiede è sovraffollato, magari con un solo bagno. Per chi si occupa di tutelare gli studenti, gli errori sono di ogni tipo, e non solo legati al desiderio di lucro da parte dei privati, ma anche dalla strategia del governo che ha veicolato le cruciali risorse del PNRR nella direzione sbagliata. Un altro tema è che l'ingresso del privato all'interno dei fondi PNRR sia stato un grandissimo errore, perché questo ha aperto appunto alla speculazione del privato all'interno di quello che è il tema degli affitti per studentesse e per studenti. Come Udu crediamo che sia necessario trovare una soluzione a questo. E la soluzione, spiega Udu, non sono solamente gli studentati due dei quali in costruzione a Modena, l'intervento pubblico diretto aiuta, certo, ma senza il coinvolgimento di tutte le forze in campo non sarà sufficiente. Che il comune, che l'università dialoghino con il privato sociale per arrivare al superamento di quelli che sono i problemi del canone concordato attualmente presente. Auspichiamo che un intervento, soprattutto massiccio e importante, arrivi dal governo che fino ad ora ha bypassato o dato appunto delle soluzioni che possono essere definite palliative a questo problema.